buongiorno buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio oggi ho comprato questa piastra questa è la marca e l'ho comprata su amazon e l'ho pagata 40 euro l'ho comprata con mia mamma e oggi farò un video perché questa è una piastra che alliscia i capelli gli aliscia e l'ho comprata per provarla e oggi non c'è è uscita mia mamma ora io sono adesso la casa e questo è ora per iniziare a piastrare i capelli devo fare con la spazio e iniziare a piastrare e iniziare a piastrare grazie a tutti questo è il risultato ma... Io tagliavo lisci, questo io l'ho fatto ancora più lisci ma vi farò vedere il risultato finale. Ve lo volevo dire che questo è pure il phon, pure quanto ce l'hai bagnato li puoi fare qua perché c'è il phon e quindi io sono grande e quindi posso farlo. Voi non lo fate a casa, fa che lo comprate, fatevi aiutare da un adulto. Allora, sembra che io sono una bambina ma invece sono grande. Ho dieci anni e basta. Ora continuiamo e vi farò vedere. Aspettate quindici minuti. Non piuudete perché questo video vi piacerà molto. Vi giuro. Vedete tutto questo video e non lo perdete. Finirà a tutti i bambini perché già ho 400.000 like. E no, i bambini l'hanno visto. Questo è il mio terzo video. E aspettate. E mettetelo sempre a due. A uno non ve li fa molto lisci. A starsi. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo qui per vedere un altro nuovo video e cliccate davanti alla piastra liscia il video di ieri. Ciao!